La storia è davvero una strana narrazione di eventi, una narrazione che spesso tende a nascondere la verità, volutamente o meno, che spesso tende a dimenticare, a volte addirittura inventa fatti, fatti che non sono mai accaduti ma che tutti riteniamo siano veramente storicamente accaduti. Dicevo che la storia tende a dimenticare e stranamente pur essendo donna tende a dimenticare quando si dovrebbe parlare di donne ed è infatti proprio di questo che parleremo in questa puntata, in questo episodio. Benvenuti su Frontiere Proibite, benvenuti da Roberto Lapaglia, dal giornale dei misteri. Prima di iniziare un invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri like se vi fa piacere, i vostri commenti. La storia tende a dimenticare le donne, soprattutto quando queste donne hanno fatto la storia, hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini, hanno scritto davvero intere pagine che riguardano nuove scoperte, nuovi passi avanti nella tecnologia, nella scienza, nel progresso. Tende a dimenticarle o quantomeno tende a metterle da parte, tranne poi ripescarle negli anni a venire, quando ormai i loro meriti sembrano essere stati del tutto dimenticati. Vi racconterò le storie di tante donne che davvero hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere e ve le racconterò in due episodi, questo appunto è il primo. Quindi iniziamo subito il nostro viaggio, le donne dimenticate dalla storia. A tra poco. Conoscete la doppia elica del DNA? Ovviamente sì, è stata la scoperta che ha rivoluzionato davvero la nostra storia, aprendo la strada a innovazioni del tutto, addirittura quasi futuristiche, a volte purtroppo anche discutibili. La paternità di questa scoperta viene attribuita a Francis Crick e James Watson. Ma allora per quale motivo, se la paternità è loro, questa attribuzione viene data soltanto in parte. Molto semplicemente perché non avrebbero mai raggiunto il loro successo senza le innovative scoperte effettuate nella cristallografia ai raggi X, scoperte effettuate da una donna, Rosalind Franklin. L'immagine chiara del DNA che oggi tutti possiamo vedere non sarebbe mai stata possibile senza Rosalind Franklin e la sua abilità nella cristallografia per catturare immagini. Rosalind frequentò la Stanford University conseguendo una laurea in biologia nel 1899 e un master sempre in biologia nel 1900, successivamente un secondo master presso il Brian Muir College di Philadelphia. Chi era quindi Rosalind Franklin? In pratica si tratta della chimica, biochimica e cristallografa inglese, le cui ricerche risultarono fondamentali per la comprensione delle strutture molecolari del DNA e del RNA. Fu infatti grazie alla famosa foto 51 che Watson e Crick riuscirono ad elaborare il modello chimico del DNA. I due in seguito si appropriarono del lavoro della Franklin senza attribuirle alcun merito, tanto da ricevere nel 1958 il premio Nobel, lasciando la ricercatrice nell'ombra per oltre 55 anni. Ma restiamo sempre nel campo del DNA perché se ad una donna si deve la famosa foto 51 che portò poi alla scoperta della quale vi ho appena parlato, sempre ad una donna si deve l'importante scoperta che deriva dalla presenza o meno del cromosoma Y. Il nome di questa donna, anche lei dimenticata dalla storia, è Nettie Stevens. Nettie Stevens nacque a Cavendish nel Vermont il 7 luglio del 1861 e fu una delle prime donne scienziato nell'ambito delle scienze biologiche. Si laureò in due anni anziché in quattro e riuscì ad entrare in uno dei pochi istituti di ricerca che alla fine dell'Ottocento permettevano alle donne di studiare fino al livello di dottorato. E fu proprio lavorando in questo istituto che riuscì a stabilire come il seme maschile contenesse entrambi i cromosomi, mentre le cellule riproduttive femminile contenevano soltanto il cromosoma X. Nel 1905 pubblicò i risultati delle sue ricerche, ma il merito venne invece attribuito a Thomas Hunt Morgan, un genetista molto noto in quel periodo, che in pratica ricopiò gli studi che la Stevens gli aveva svedito per chiedere un parere. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a quello che ormai è stato ribattezzato come effetto Matilda, ovvero la puntuale minimizzazione o dimenticanza delle donne quando queste ultime si trovano al centro di importanti scoperte, soprattutto nel mondo della scienza. Ma andiamo avanti perché siamo soltanto all'inizio del nostro viaggio. Sapete chi ha inventato il tergicristallo che azionate nelle giornate di pioggia? Beh, anche in questo caso si tratta di una donna. Fu infatti Mary Anderson che nel 1903, durante un suo viaggio a New York, iniziò a sviluppare il progetto di un dispositivo che fosse in grado di pulire il parabrezza delle vetture. La realizzazione sarà una leva situata nell'abitacolo collegata ad una stecca di gomma posizionata all'esterno sul vetro. L'inventrice brevettò questa sua soluzione, ma non riuscì a trovare acquirenti. Così nel 1920, con il brevetto ormai scaduto, Mary Anderson decise di non rinnovarlo, visto anche lo scarso interesse. Fortuita coincidenza, ma nessuno ci crede davvero, due anni dopo la sua importante invenzione venne usata in serie da una importantissima casa automobilistica, la Cadillac. Forse usare un'invenzione sicuramente utilissima, ma partorita dalla mente di una donna, dava fastidio agli automobilisti. Passiamo adesso al campo delle comunicazioni. Ci credereste che il wifi, comodissima e utilissima invenzione che noi tutti oggi usiamo largamente, che io stesso in questo momento sto usando sul mio cellulare, anche questa è un'invenzione nata da una mente femminile? E infatti è proprio così. E in questo caso non si tratta di una donna assolutamente dimenticata. Dimenticata forse per la sua invenzione, ma non per altro. Stiamo infatti parlando di una delle più grandi dive del cinema di Hollywood, Eddie Lamar. Anno 1932. La giovane attrice Edwig Eva Maria Kiesler, meglio nota come Eddie Lamar, ha appena 18 anni ed è costretta a lasciare l'Austria, la sua patria, per fuggire al regime nazista. Giunta ad Hollywood, si fa subito a notare per il suo fascino e si ritrova ben presto a recitare al fianco di grandi attori come Claire Gable e Judy Garland. Ma sicuramente vi starete ancora chiedendo cosa centri Eddie Lamar con il wifi. Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare ancora una volta indietro nel tempo, nell'America degli anni 30, ovvero quando Eddie Lamar decide di lasciare i suoi studi di ingegneria per dedicarsi completamente alla sua più grande passione, il cinema. Ma con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, la comunità austriaca di Los Angeles decide di mobilitarsi contro il nazismo. Eddie Lamar, viste le sue origini, si sente personalmente coinvolta e inizia a chiedersi come poter dare il proprio contributo alla causa. Profondamente colpita e colorata dalla notizia dell'affondamento di una nave da parte dei tedeschi, nave che portava a bordo anche dei bambini, Eddie Lamar inizia a pensare ad una invenzione che metta in sicurezza i siluri alleati, ovvero un'invenzione che permetta ai siluri alleati di non essere intercettati dal nemico. Rispolverate le nozioni apprese durante gli studi di ingegneria, la donna iniziò ad escogitare un modo per distribuire il segnale di guida dei siluri su più frequenze, in modo da proteggere gli ordigni dalle interferenze generate dal nemico. Un'idea semplice all'apparenza, ma di certo geniale. La svolta decisiva avviene dopo il suo incontro con George Antail, un compositore francese che studiava il controllo automatizzato delle pianole. I due si misero subito al lavoro cercando di trovare un modo per teleguidare gli ordigni bellici in sicurezza dalle interferenze nemiche. Fu così che il 10 giugno del 1941 Eddie Lamar e George Antail presentarono all'ufficio brevetti americano il loro primo progetto, il Secret Communication System, un sistema basato su 88 frequenze, corrispondenti al numero dei tasti del pianoforte. Il sistema utilizzava rulli di carta perforati che, ruotando in sincronia, trasmettevano e ricevevano frequenze sempre diverse, riuscendo così ad evitare ogni tipo di intercettazione o disturbo. L'11 agosto dell'anno successivo venne concesso il brevetto, ma l'installazione di un tale sistema all'interno di un siluro venne ritenuta del tutto impraticabile. L'invenzione cadde così nel vuoto, o almeno così fu all'apparenza. Nel 1985, infatti, quando il brevetto cessò di avere efficacia, l'invenzione di Eddie Lamar divenne di colpo la base per tutta la tecnologia telefonica moderna. Qualche domanda prima di chiudere. Chi sviluppò il test rapido in cinque punti che ancora oggi viene usato per valutare lo stato di salute dei neonati? E chi creò la prima mappa del fondo oceanico? E infine, per voi appassionati di giochi da tavolo, sapete chi ha inventato il Monopoli, quel gioco che vi ha fatto e ci ha fatto passare tante ore liete in compagnia degli amici? Risponderò a queste domande, ma vi parlerò anche di molto altro nel secondo episodio dedicato alle donne dimenticate dalla storia. Noi siamo giunti alla fine del nostro viaggio, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, i vostri like. Noi ci vediamo la settimana prossima, grazie per esserci stati, grazie ed un saluto dal giornale dei misteri. Settimana prossima le donne dimenticate dalla storia. Ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti.